Il barcone non l'avete visto? Il barcone non l'avete visto? Erano pieni di benzina e olio, ci scivolavano dalle mani, abbiamo fatto il possibile, abbiamo dato tutto quello che avevamo nella nostra imbarcazione per poterli salvare. E che cosa vi hanno detto? Ma guarda io con un po' di inglese che loro parlavano siamo riusciti a capire che erano 500 e che nel tentativo quando hanno visto l'isola di dare il segnale hanno preso una coperta o qualcosa che avevano in barca e hanno dato fuoco. Sicuramente hanno dato fuoco ed è successo qualcosa a bordo per cui 500 persone che si sono rimesse magari sul lato il barcone si è capovolto. Tra l'altro il mio compagno ha chiesto l'aiuto di tutte le imbarcazioni, di tutti quelli che potevano essere là e si è veramente scatenata una catena umana di aiuti, motoscafi. Alcuni hanno lasciato anche le traghine a mare per salvare questi ragazzi che non devono morire. E comunque i ragazzi erano tutti, quelli che abbiamo salvato erano tutti giovani, dai 16 io penso 23, 24, 25 anni e sono quelli che sono riusciti a rimanere in acqua e sopravvivere e avvicinarsi all'isola perché tutti gli altri credo che erano disperati. Erano disperati, piangevano, dicevano di salvare i bambini, salvare i bambini, ma noi cercavamo i bambini, ma i bambini penso che sono morti. C'era luce alle 7 minuti. Già, come no, ma noi da lì che li abbiamo notati perché sbracciavano, urlavano e a quel punto abbiamo iniziato a correre con la nostra barca a raccogliere queste persone, non potevamo fare diversamente, ce n'erano troppi.